Ben trovati dalle spettatori di Cilento Channel, ci ritroviamo con il delegato sindacale della FSI USAE Roberto Ronca per parlare nuovamente di sanità e di quello che purtroppo non va nella sanità della provincia di Salerno, nello specifico del Cilento. Roberto, ben trovato, benvenuto nei nostri studi e grazie per aver accettato il nostro invito. L'11 ottobre ci sarà una grande manifestazione, uno sciopero nazionale dove tanti sindacati saranno sotto la sede della regione Campania per protestare. Vogliamo spiegare ai telespettatori di Cilento Channel le motivazioni che vi hanno portato a realizzare questo sciopero sindacale e quindi ad unirvi tutti insieme per un accorato appello ancora una volta. Diciamo che la decisione è stata presa dal segretario nazionale della FSI USAE Adamo Bonazzi anche in virtù del prosieguo del congresso che abbiamo svolto il 25 e 26 a Roma. Perché? Perché abbiamo fatto il punto della situazione sulle trattative sul contratto nazionale e naturalmente, come al solito, ritroviamo che la parte economica destinata agli aumenti per gli operatori della sanità è sempre poco sufficiente. I calcoli sono molto semplici da fare. Ci dobbiamo soffermare innanzitutto per forza sulla parte economica perché è la cosa che poi incide di più sulle famiglie e sui lavoratori. Già si è detto da più tempo, da più volte che l'infermiere medio, se in Italia prende 1600 euro di stipendio netto mensile, in Europa già le cifre arrivano oltre i 2000 e passa euro. E quella era una delle proposte nostre di portare gli stipendi con degli aumenti molto importanti. Invece si sta decidendo, purtroppo, per quanto riguarda lo stanziamento, si sta decidendo con delle cifre ridicole, irrisorie. Si parla tra i 70 e i 100 euro di aumento medio mensile. E noi, naturalmente, con la nostra manifestazione, vogliamo mettere in evidenza che appunto queste risorse non sono sufficienti. Ma non lo diciamo per evidenziare questa problematica, anche in virtù del fatto che materialmente basta ascoltare le notizie a livello nazionale per rendersi conto che veramente stiamo parlando di spiccioli, visto che l'inflazione su base annua è al 2,6% ad oggi. e materialmente si parla di aumenti di bollette di gas e luce di 400 euro a famiglia. E noi cosa facciamo? Diamo 70 euro l'urdi di aumento mensile a un lavoratore. Sembra che siamo proprio su un altro pianeta. Probabilmente il governo a livello nazionale non si rende conto di cosa sta facendo. Come al solito si è sempre parlato, anche ultimamente si parla, quando si indica la sanità, gli eroi, le persone bravi, i medici, il loro valore e quant'altro. Però poi all'atto pratico, quando siamo lì per rinnovare il contratto, purtroppo le risorse si tende a risparmiare sempre sugli operatori della sanità. E in più dobbiamo evidenziare che questo risparmio viene messo a confronto anche con l'incentivo medio che viene dato a tutti i comparti della pubblica amministrazione, dove la sanità è sempre uno degli ultimi posti. Roberto, quindi dopo questo sciopero nazionale che si darà appunto, ripeto, l'11 ottobre, invitiamo anche chi magari ascolterà questo servizio ad unirsi alle sigle sindacali per far sentire ancora più forte il grido di aiuto dei lavoratori dell'Asla di Salerno. Che cosa succederà se magari non ci dovesse essere un riscontro da parte degli organi preposti? Io faccio già un passo in avanti, proprio perché così ci portiamo anche il lavoro che poi svolgerete in un prossimo futuro. Ci auguriamo di no, che magari quel giorno ci siano delle risposte. Sicuramente mi auguro che a livello di ARAN, di contrattazione, si prenda atto di questa manifestazione dei lavoratori. Questa manifestazione dovrebbe servire anche a far aprire gli occhi ai nostri colleghi sindacalisti più che incidono nei tavoli di trattative, che quindi tutti insieme riusciamo a pretendere quello che è dovuto per i lavoratori e non a volte accontentarci e quindi dividerci tra esigenze diverse a seconda della questione di appartenenza sindacale. Perché purtroppo lo sciopero l'abbiamo dichiarato noi come sigla autonoma non significa che tutte e proprio tutte le sigle sindacali sono d'accordo perché altrimenti non arrivavamo a usare questo strumento di leva per cercare di evidenziare una insoddisfazione dei lavoratori. Ecco Roberto, avete già un numero di quante persone dal Cilento partiranno per appuggiare questo sciopero nazionale? No, non abbiamo un numero, noi abbiamo organizzato il pullman che da Vallo della Lucania passerà quindi in base agli appuntamenti che prendiamo per l'Asel Salerno perché noi siamo competenti sul territorio dell'Asel di Salerno quindi l'Asel Salerno, Ruggi, tutti quelli che vogliono partecipare non solo di appartenenza sindacale nostra ma tutti i lavoratori che vogliono partecipare noi abbiamo messo a disposizione il pullman. Al momento non abbiamo purtroppo tutte queste adesioni immaginiamo però che a Napoli poi troveremo altro pubblico. Il discorso è sempre lo stesso, che in questo momento si sta vivendo un momento di apatia i lavoratori sono demotivati, vengono da una battaglia importante dove tra le altre cose ci sono state ulteriori insoddisfazioni problematiche, oggi leggevamo sul giornale, problematiche per i dispositivi di protezione che sono stati sempre troppo abbondanti rispetto alle esigenze, problematiche di incentivo Covid su cui si è speculato, sono state fatte distribuzioni non troppo trasparenti noi abbiamo scritto più volte, stiamo ancora aspettando degli elenchi per capire effettivamente a chi e come sono stati dati questi incentivi. Il personale medio, il dipendente medio che sono 20 anni, 30 anni, che lavora nelle corsie noi immaginiamo la signora, io porto questi esempi proprio perché devono colpire l'infermiera che ha 60 anni, 62 anni, che tutte le mattine fa il turno nel reparto, problemi familiari, problemi fisici, problemi personali che ancora sono lì, che continuano a fare il loro dovere e che aspettano senza pretendere, senza chiedere, nella loro umiltà, offrono il loro servizio di assistenza sanitaria e nessuno li pensa. Noi lottiamo ma ci sono altre sigle sindacali che trascurano forse perché in questo momento è più facile trovare nuovi adepti tra le nuove assunzioni giovani, perché quelle persone così, i dipendenti di tanti anni, ormai ne hanno rotto le scatole anche delle organizzazioni sindacali, non aderiscono più a nulla. Quindi questo è il discorso, è il paragone. Quindi anche andargli a dire alla signora vieni a fare lo sciopero con noi è un tentativo che noi facciamo, però certamente non ci aspettiamo che tutti ci dicano veniamo. E allora su questo esempio di vita che hai, oltre che il lavorativo, che hai appena esposto, riformuliamo l'invito a tutti coloro che magari seguiranno questo servizio televisivo e a presenziare questo sciopero nazionale importante che si terrà l'11 ottobre a Napoli nei pressi della regione Campania per gridare ancora una volta il diritto a una retribuzione giusta, un incentivo giusto che possa arrivare ai lavoratori dell'Asla di Salerno e in particolare per quanto riguarda il nostro territorio ai lavoratori del Cilento. Grazie Roberto per la tua presenza e sempre per la tua disponibilità. Grazie.